Salve a tutti noi siamo Fildo Emilio e questo è 4Più e quindi oggi siamo a un bel tutorial dei Relic tutorial piccolo, molto piccolissimo, proprio veloce è un gioco da due a quattro giocatori, massimo divertimento in quattro giocatori ma anche la massima durata e può arrivare veramente a durare tantissimo però è un gioco molto divertente, molto appassionante il personaggio si può personalizzare in tantissimi modi, andando avanti con l'immaginamento e tutto guardiamo le regole piuttosto lunghe di questo gioco e poi ci vediamo in fondo per i commenti Per iniziare apriamo il tabellone di gioco, questo è suddiviso in tre livelli, cioè esterno, centrale ed interno e in uno spazio scenario al centro, ciascun livello è suddiviso in quattro aree, cioè i suoi lati a loro volta divise in delle caselle che diminuiscono di numero muovendosi verso il centro Adesso scegliamo casualmente lo scegliambio della partita che affronteremo, sul quale troveremo delle regole speciali con le quali affrontare il match Se la prima volta è giocata è meglio partire con lo scenario oltre il mistero, che è del tutto neutro Una volta scelto poniamo lo scenario al centro del tabellone Ora prendiamo tutte le carte presenti nella confezione, le dividiamo per tipo, le mescoliamo e le poniamo a fianco del tabellone Le carte che possiamo trovare sono carte corruzione, carte missione, carte potere, carte reliquia, carte equipaggiamento e carte minacce a loro volta suddivise in blu, gialle e rosse Sui lati del tabellone andremo anche a posizionare tutte le pedine aria, che serviranno per alimentare l'equipaggiamento e quelle influenza, che corrispondono ai soldi del gioco Adesso è il momento di scegliere il personaggio La scelta non sarà del tutto libera, ma distribuiamo casualmente due personaggi a ciascun giocatore e questo può sceglierne uno Dopo aver scelto il personaggio, ognuno sceglierà anche il colore col quale vuole giocare e prende Il pannello del personaggio, che pone in questo modo sopra la scheda La base in plastica, che va incastrata con molta forza sotto alla rispettiva statua del proprio personaggio dopodiché lo pone nella casella indicata sulla sua scheda Le pedine personaggio di quel colore, che potranno servire in occasioni differenti durante la partita Il segnalino livello, da porre sopra il pannello a livello 0 Ora, ogni giocatore regola i valori del pannello del personaggio ponendo gli stessi valori scritti in basso sulla scheda I patto attributi da regolare in questo modo sono forza, volontà, astuzia e vita Inoltre, ognuno pesca un numero di carte potere pari al limite massimo scritto sulla propria scheda Infine, ci rimane solo da distribuire tre pedine influenza e una carta missione a ciascun giocatore Prima di vedere le regole diamo un'occhiata veloce ad un personaggio In alto, come abbiamo visto, troviamo i tre attributi e la vita che potranno essere aumentati o ridotti in vario modo durante il corso della partita Questa sotto è la barra del livello che ci indica appunto a che livello ci troviamo Ogni volta che saliamo di livello prenderemo immediatamente le due ricompense descritte nella colonna sotto al rispettivo numero Ad esempio, in questo caso, il personaggio guadagna un punto forza e pesca una carta potere Mentre in quest'altro caso avrebbe guadagnato un punto volontà ed una carta missione a faccia in giù che corrisponde ad una missione già completata Qua troviamo il limite di potere che ci indica il numero massimo di carte potere che possiamo ottenere e che aumenta con l'aumentare di livello Sulla destra troviamo la probabilità speciale del personaggio e in basso sono scritti i valori di vita e degli attributi che dovremo settare ad inizio partita Nota che i tre attributi non potranno mai scendere al di sotto dei valori coscritti Infine, subito sopra, troviamo un numero massimo di risorse cioè armi, armature e altro che possiamo assegnare al personaggio e accanto troviamo lo spazio a cui lo faremo partire La partita si svolge a turni Durante il suo turno il giocatore deve effettuare, in ordine, le seguenti quattro fasi 1. Fase di movimento Il giocatore tira un dado e muove la sua pedina di quel numero esatto di spazi Ogni pedina può sempre muoversi in senso orario o anti-orario nel livello in cui si trova ma una volta iniziato il movimento non può invertire la sua direzione nello stesso turno Nel livello interno non si tirano i dadi per muoversi ma ci si muove di un solo spazio alla volta in senso anti-orario fino a raggiungere la casella centrale 2. Fase di esplorazione Molti spazi del tabellone presentano delle icone minaccia che possono essere rosse, blu o gialle Se la pedina finisce il suo movimento in uno di questi spazi allora pescherà un numero di carte minaccia del rispettivo colore pari al numero delle icone minaccia Ad esempio in questo caso pesca due carte minaccia rosse e le pone a faccia in su sulla sua casella Nota che se ad esempio qua fosse già presente una carta rossa per qualche motivo il giocatore avrebbe pescato solo una carta e non due Se invece la pedina finisce il movimento in uno spazio non ha scritta non pesca 3. Fase di ingaggio In questa fase si affrontano le carte minaccia appena pescate Queste, indipendentemente dal colore, possono essere di quattro tipi 4. Carte evento Per risolvere queste carte basterà leggere quanto descritto Appena fatto si scarta la carta 5. I nemici Il giocatore dovrà combattere contro ogni nemico presente nel suo spazio Tra poco vedremo nel dettaglio come si svolge il combattimento Se il personaggio perde uno scontro la sua fase di ingaggio termina immediatamente 5. Carte incontro Queste sono carte particolari che, a meno che non ci sia scritto diversamente, non vengono scartate dopo averle risolte Ovviamente un giocatore non può affrontare più volte lo stesso incontro nello stesso turno 5. Carte risorse Che possono essere prese gratuitamente dal giocatore di turno, il quale le può riporre nel suo equipaggiamento Nota che le carte minaccia devono essere risolte nell'ordine appena elencato Quindi prima gli eventi, poi i nemici, poi gli incontri e infine le risorse Quindi se, ad esempio, un giocatore perde uno scontro, non risolverà le eventuali carte incontro presenti E non potrà neanche prendere le risorse, perché la sua fase di ingaggio termina 4. Fase di esperienza Durante questa fase il giocatore può A. Spendere i trofei Quando un giocatore sconfigge un nemico, può prendere la sua carta o mette trofeo e tenerla gratuitamente nel suo inventario Ogni nemico, da un numero di punti trofeo, pari al numero scritto in alto sulla carta Quando raggiunge 6 punti trofeo, potrà scartare la carta trofeo per salire di un livello Spostando il segnalino in questo modo Ad esempio, se un giocatore possiede complessivamente 13 punti trofeo Potrà decidere di scartare tutte le carte per salire subito i due livelli Però il punto in più sarà considerato perso B. Gestire le carte missione Ogni giocatore può tenere una sola carta missione attiva alla volta E quando risolve il testo descritto dalla missione, la gira a faccia in giù E la collezione come missione completata Quando raggiunge 3 missioni completate, può scartare le carte e pescare 2 carte reliquie Sceglierne una e riporre l'altra sul fondo del mazzo Se, durante questa fase, il giocatore non ha carte missione attive, ne pesca una C. Scartare le carte potere e risorsa in eccesso Il limite di queste due carte è indicato sulla scheda del personaggio Ora che abbiamo visto tutte e quattro le fasi di un turno Andiamo ad approfondire alcuni aspetti specifici del gioco Che saranno utili per comprendere meglio lo svolgimento di una partita Le battaglie Abbiamo visto che pescando le carte minaccia potremo incontrare nemici da sconfiggere Per affrontare uno scontro dovremo utilizzare il nostro attributo del collo rispondente a quello del nemico che stiamo combattendo Ad esempio, in questo caso, affronteremo lo scontro utilizzando il nostro valore di volontà Prima di tirare i dati dello scontro, il giocatore può decidere di attivare una sola delle sue armi Per aumentare il suo valore di combattimento Dopo, vedremo meglio come Adesso, il giocatore alla sinistra e il giocatore attivo effettuano un tiro battaglia per il nemico Tirando un D6 Stessa cosa farà il giocatore attivo per il suo personaggio Se durante questi tiri il giocatore e il nemico ottengono un risultato pari a 6 Possono tirare immediatamente un altro dado attenzionale Adesso si sommano tutti i valori ottenuti con quelli di partenza e si guarda chi vince Facciamo un esempio Il nemico ha volontà pari a 4 E tirando il dado di attacco esce un 6 Che gli permette di tirare un altro dado Con il quale fa un risultato di 3 In totale, quindi, realizza un punteggio di 4 più 6 più 3 Cioè di 13 Il giocatore attivo, invece, ha volontà pari a 7 E con il dado ottiene un 4 Però, prima di tirare i dadi, aveva deciso di attivare la spada psionica Che gli fornisce un 3 alla volontà Quindi, in totale avrà 7 più 4 più 3 Cioè 14 Con il quale va a vincere lo scontro Se, nella stessa casella, il giocatore incontra più nemici dello stesso tipo Effettuerà comunque uno scontro unico Sommando però i valori degli attributi dei nemici Ad esempio, in questo caso, sarà come affrontare un singolo nemico con volontà pari a 6 Se, invece, incontra più nemici ma con attributi di tipo differente Dovrà comunque affrontarli tutti Ma solo uno alla volta E scegliendo lui quale affrontare per prima Se il giocatore vince la battaglia Prende tutti i nemici sconfitti e li tiene come trofei Che poi potranno essere scambiati per aumentare di livello Se il giocatore viene sconfitto, perde un punto vita E subisce le eventuali penalità descritte dalle carte dei nemici Oltre a terminare subito la fase di ingaggio Se, infine, lo scontro termina in un pareggio La fase di ingaggio termina ugualmente Ma il giocatore non perde punti vita Test di abilità Non sarà raro trovare una casella o una carta che vi dice di effettuare un test di abilità Per superarlo, il giocatore deve tirare un dado E sommare a questo il valore dell'attributo rispondente al test Ad esempio, se stiamo affrontando un test a forza 10 E abbiamo 7 forza Dovremo fare almeno 3 per superare il test Risultato, potremmo sommare eventuali equipaggiamenti o bonus Che ci diano un extra a quell'attributo In ogni caso, se con il dado facciamo un risultato di 1 Il test fallisce automaticamente Mentre se facciamo 6 potremo tirare un dado addizionale Carte potere Queste carte possiedono un numero e una descrizione E potremo sfruttare solo una delle due cose Per sfruttare la descrizione di una carta potere Dovremo semplicemente giocarla come descritto sulla carta stessa Oppure possiamo utilizzare il numero della carta Per evitare di tirare un dado durante un combattimento o una prova di abilità Infatti, se ad esempio dovessimo fare un 4 o più Durante un combattimento per riuscire a vincerlo Possiamo evitare di rischiare e usare il numero di questa carta potere al suo posto Dopo averla usata, in uno di questi due modi, si scarsa Carte di rifaggiamento Queste carte forniscono dei bonus di vario genere Alcune funzionano con una carica E quando queste entrano in gioco si pone su di essi un numero di segnalini carica Pari al valore scritto in alto Ogni volta che vogliamo utilizzare quell'abilità Dobbiamo togliere un segnalino della carta E se questa rimane senza segnalini Viene scartata immediatamente Durante un singolo scontro il giocatore può usare solo una carta arma Ed una carta armatura I bonus Abbiamo visto che alcune carte ci possono fornire dei bonus durante i combattimenti o nelle prove di abilità Se il bordo del numero indicato è liscio Allora vuol dire che quel bonus vale solo per le prove di abilità Mentre se è frastagliato vale solo per i combattimenti Ovviamente il bonus vale esclusivamente per l'attributo del suo colore Quindi questo darebbe un 3 a combattimento su volontà Ma non su forza o astuzia Inoltre ci sono delle carte il cui numero è colorato in grigio Queste sono universali e danno un bonus a tutti e tre gli attributi Carte reliquia Queste sono simili alle carte di propaggiamento ma molto più forti E si possono ottenere scartando 3 carte di missione completata Carte corruzione Queste carte si possono ottenere in vari modi durante una partita E possono dare dei bonus o dei malus al giocatore Quando si pesca una carta corruzione si guarda il suo numero di attivazione C'è quello in alto a destra Se questo è maggiore il numero di carte corruzione posseduto da quel giocatore Inclusa quella appena pescata Allora si pone la carta a faccia in giù e si ignora la sua abilità Se invece è minore o uguale la carta si attiva e si legge quanto descritto Se un giocatore arriva ad avere un numero di carte corruzione pari a 6 Allora diventa un giocatore corrotto In tal caso deve immediatamente scartare il suo personaggio e pescarlo in un uovo Con il quale partirà dal livello 0 e con gli attributi ai livelli indicati Pescata ottenere carte potere, corruzione, trofei e perde l'influenza che aveva Mantenendo però le eventuali carte rimanenti Giocatori sconfitti Quando i punti vita di un giocatore arrivano a 0 Questo è sconfitto e deve scartare tutte le carte potere, i trofei e l'influenza che aveva Ripristinandosi la salute al livello iniziale E spostando la sua pedina sulla casella Santuario di Santa Antias Il giocatore rinizia da qua Mantenendo tutte le altre carte che possedeva Muoversi tra i livelli Per muoversi da un livello all'altro ci sono dei portali di ingresso Per passare dal livello esterno a quello centrale ci sono tre spazi Agli angoli che permettono l'ingresso automaticamente Inoltre esistono due spazi particolari, cioè questi due Che sono delle caselle di movimento Se durante il movimento passiamo su una di queste caselle Possiamo svolgere immediatamente quanto scritto su quella casella di testo Per poi continuare il nostro movimento Per entrare nel livello interno invece Potremo passare esclusivamente da questa casella Nota che non sarà quindi possibile muoversi tra i livelli liberamente Cioè non potremo mai fare nessun movimento di questo tipo La partita finisce non appena un giocatore riesce a raggiungere la casella centrale del tabellone Ricordiamo però che nel livello interno ci possiamo muovere di una sola casella alla volta Senza cioè tirare nessun dado Inoltre, come descritto su questa casella Per entrare nello spazio interno dovremo aver preso almeno una reliquia E perciò dovremo aver completato le nostre missioni Se questo è lo scenario base vi basterà raggiungere il centro per vincere la partita Se invece è un altro tipo di scenario È probabile che dobbiate sconfiggere un nemico molto potente una volta arrivato in fondo Il primo che ci riesce ha vinto la partita E quindi eccoci alla fine di questo mega tutorial Beh il gioco è molto molto difficile Ci vuole almeno una partita per valerci Le regole sono spiegate malissimo nel regolamento Veramente malissimo Cioè in realtà sono spiegate tutte ma sono a pezzi Un po' qua, un po' là Non le deve ritrovare Quindi alcune cose spiegate bene Alcune veramente tralasciate Quindi alcune cose ce le siamo un pochino inventate quasi Sì sì più o meno Un pochino affidate Algo cioè ci siamo arrivati Quindi se magari voi l'avete capito meglio di noi Sì se abbiamo sbagliato qualcosa ditercelo E se non avete capito qualcosa invece chiedetecelo pure nei commenti Guardiamo se sappiamo rispondere Naturalmente no ma Una partita l'abbiamo portata a termine Quindi anche tu Ho vinto sempre io Sono schifoso Sono fortissimo Comunque Siete tra il gameplay Si vedrai che il gameplay Ehm noi il gioco è piaciuto abbastanza Lui soprattutto E quindi in media gli daremo un bel po' l'altro E quindi voi magari commentate Come si è detto prima Iscrivetevi se proprio vi va Soprlo sempre se proprio vi va E mettete un mi piace Assolutamente Soprlo sempre non l'avete mai detto E quindi sì E quindi sì Soprlo fin Dota Soprlo fin Dota Ehm Stiamo decenerando E' tardi anche questo Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Soprlo fin 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 Soprlo fin